Qualche domanda? Quindi significa che lui era molto connesso a Gesù. E questo è l'amore. Quando c'è una connessione divina da anima ad anima, allora potrai ottenere i marchi, gli stessi sintomi. Perché è una connessione divina. Non è una connessione condizionata. Una connessione condizionata materiale, allora otterrà dei sintomi e dei marchi materiali. È divino. È accaduto. Non è accaduto. Per capire che è accaduto. È accaduto. Si. Questo libro era delle relazioni di Prabhupada e della Venugita. Della relazione di Prabhupada. Della relazione di Prabhupada. Della relazione di Prabhupada. Della relazione di Prabhupada che è una connessione di Prabhupada. Della Venugita, vedete, Nitta Siddha e Sadana Siddha. Nella Venugita, troviamo a riguardo dei Nitya Siddha, che sono i più elevati, e Sadana Siddha. Però dove sono i Kripa Siddha? Dove è scritta riguardo i Kripa Siddha? Allora mi venne un'ispirazione. Oh fool! All books are for the Kripa Siddha. All the literatures. What is that? Is only to how to get mercy. What is this teaching? How you can get very easy mercy in your life? This is Kripa. Only by greed you can get it. and get mercy. This is Kripa. Right? What is Bhagavad Gita? What is Srimad Bhagavad? It's all... You see how many people in this world they want to keep mercy and they get the mercy. What type of things they are requiring, they get that. All is true. in this world. What they do, what they happen, what the result happens. That is sure. All the person he has to die. That is sure. But how they die and how they get this, realisation. A moment after three days, Pariksit got the realisation of the soul idea. So they, Rishi asked, you want nectar? I can give you a drink and... All right, Rishi asked, you want nectar? I can give you a drink and... You say, I already drink nectar. I realized myself that I am a living entity and I will not die. And he wants to listen more and more. So then Rishi brings every step by step to the highest. şeker The感想s The Gopi Ghis, Venug Ghis The Gopi Ghis, Venug Ghis Brahmà iso, Brahmà iso, Brahmà iso, Brahmà iso, Brahmà iso, Brahmà iso. Il problema di portare alla dimensione di tutto il punto di tutto il punto di tutto il punto di tutto. La raggiungere della gopi ghi è l'obiettivo più elevato della nostra vita, quindi questa è tutta la preparazione per poter poi arrivare a quel livello. Il livello della gopi, no? Il livello della gopi. Il livello della gopi. Certo. Giusto. Il livello della gopi. Certo. Certo. Urudea prima ha detto che non bisogna perdere il centro perché ci aiuta a realizzare Dio e la relazione che ci unisce a Lui Urudea prima di parlare che non bisogna perdere il centro altrimenti perdere la nostra relazione con Dio e la nostra identità spirituale Allora, io volevo sapere che cos'è, se ci poteva aiutare un po' a capire cos'è questo centro e se ci poteva dare un consiglio per come non perdere questo centro, cioè non decentrasse cioè che si intende di questo centro Qual è il centro del tuo corpo? L'anima In 24 ore, quanti minuti impieghi nel ricordarti che sei un'anima? 30 secondi Dobbiamo cercare di ricordarci di più, di essere nella coscienza dell'anima Se non sono nel centro, come posso capire qual è il mio obiettivo? Se non so qual è il punto iniziale, come posso andare verso l'obiettivo? Perché facciamo bhajan, perché ascoltiamo l'anima? Per arrivare al centro Perché? Perché sono decentrato Però se arriverò al centro, allora tutti i miei disturbi saranno finiti, finiranno Allora dopo di quello verrà un desiderio dentro di noi Qual è l'origine di questo centro, da dove provengo? Allora potrò vedere il creatore E vedrò che Lui è il centro di tutta la creazione Allora vorrò connettermi con Lui Il centro vuole connettermi con il supercentro Questa è la natura del centro Il metro vuole connettermi con la stazione di potenza Il metro vuole connettermi con la centrale elettrica Allora potrà generare potenza Quando lo disconnettiamo dalla centrale elettrica, allora non succederà più niente Non agiamo in maniera positiva perché il nostro centro non è connesso con il generatore In tutte le scritture ci è scritto di questo argomento Apri qualunque pagina, te lo posso mostrare Che c'è scritto di questo Porta qualunque libro, apri una pagina a casa e ti posso mostrare questo che sto dicendo La madre ha una domanda Sì? Sì, bene Sì, bene Sì, prima di una domanda Quindi connessione vuol dire anche che siano connessi ciò che ascoltiamo, ciò che sappiamo e con le nostre azioni Cioè le nostre azioni rivelano se siamo in connessione con quello che sappiamo e quello che ascoltiamo Quindi la nostra azione ha mostrato quanto stiamo, ciò che abbiamo dentro Sì, il nostro comportamento, la nostra azione, il nostro pensamento, il nostro parlamento, tutto ciò mostra Il nostro linguaggio, il nostro comportamento, tutto ciò mostra ciò che noi, ciò che noi pratichiamo E chi ha visione può vedere ogni tipo di pratica e di comportamento delle persone Dobbiamo quindi incrementare questa visione divina Così che posso vedere all'interno di me stesso e anche negli altri Altrimenti qual è l'utilizzo di questo corpo? Qual è l'uso di questo corpo? Qual è l'uso di questo corpo? Qual è l'uso di questo corpo? Questo è il corpo materiale, questo è il corpo materiale, che significa che deve essere utilizzato per il sadhana Questo è l'uso di questo corpo, che è l'uso di questo corpo, che quando l'anima lascerà il corpo, ritornerà a terra Questo corpo è come terra, che quando l'anima lascerà il corpo, ritornerà a terra Però dobbiamo anche cogliere l'opportunità che abbiamo per realizzare noi stessi Cioè, quando siamo decentrati, quando diceci termonati, stiamo in una terra straniera Quindi, quando siamo non nel centro, siamo in una terra straniera Sì, una terra straniera Siamo stranieri, non siamo orientali Qual è il significato di... Occiedentale 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 Come se sei occidental qui E sei orientale perché vivete in Italia, il tuo paese Quindi, orientale è considerato colui che vive nella propria nazione, nella propria regione Chi è straniero viene chiamato occidentale Very sad to know about that Yes My God Quindi noi siamo occidentali, stranieri perché siamo decentrati Quindi noi siamo occidentali, stranieri perché siamo decentrati Quindi noi siamo accadili No 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 quanto il rupa mangiare è connesso a Radhika. Questo guru Vandana mostra il modo in cui il rupa mangiare è connesso a Radhika e il rupa mangiare è connesso a Radhika. Questo passatempo avviene tra Radhika e il rupa mangiare è connesso a Radhika e il rupa mangiare è connesso a Radhika e il rupa mangiare è connesso a Radhika. Anche nella Bibbia c'è la parola unità. Anche Gesù diceva che lui era in unità con il padre. C'è la stessa parola. C'è la stessa parola. Quando diciamo che lui è diventato Dio, rupa mangiare non ha mai detto che io sono diventato Radhika. Come possiamo comprendere questa connessione di unità se non comprendiamo prima chi è rupa mangiare? Come possiamo comprendere qual è la differenza tra amore incondizionato e condizionato? Mentre noi per noi non c'è differenza tra amore condizionato e amore incondizionato sono come la stessa cosa. Perché non abbiamo mai provato un amore incondizionato, non possiamo quindi fare la differenza. Non ho mai visto cos'è l'amore incondizionato, non l'ho mai provato e quindi credo che tutto è condizionato. Quindi la vita spirituale è l'aiuto per comprendere anche il Purana, la Bibbia. Tutto, potete vedere. Questo è Krishna, che è Supremo. Cosa vuoi fare? È la base. Per comprendere le cose incondizionate, le cose divinità, e per essere in questo. Queste sono le basi per comprendere ciò che è incondizionato e vivere in questa coscienza. Questo è il nostro centro. E questo è il nostro centro, quello che deve essere, qual è il nostro centro che dobbiamo raggiungere. Sì? Sgera. Understand? Clear? È chiaro? C'è altre domande? Tu ci hai spiegato quale è la posizione più elevata che è la Mangiari. Tu ci hai spiegato qual è la posizione più elevata che è la Mangiari. Ma vediamo che nella vita di Mahabha, di Mahaprabhu, lui ha scelto di vivere gli ultimi 18 anni della sua vita con un'associazione di persone che non erano Mangiari. Loro non sono Mangiari. Perché quindi ha deciso di stare con loro? Perché non vivono con Radika. Perché non vivono con Radika? Perché non vivono con Radika. Perché io ho testato, vedete, ragunata, dasa Goswami e rupa Goswami, sono vivendo a distanza da Mahaprabhu. E loro vivono vicino a Radhika, vedete? Perché le saakhi vogliono gustare il sentimento delle mangiare. A mangiare vuole realizzare ciò che sta succedendo. Questo è la divinità. Questo Mahaprabhu, grande, 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 maggiare. Questo Mahaprabhu ha dato una grande misericordia che non era mai successa prima. Non c'è qualcosa di più incondizionato, la cosa più elevata. Nel Divino c'è anche lì un livello di dolcezza divina sempre più elevato. E se noi vediamo Chaitanya come Krishna, siamo molto lontani da questa dolcezza. Come potrò comprendere Gadada? Come potrò comprendere Gadada? Come potrò comprendere Gadada? come potrò comprendere la misericordia di Nityananda? Come potrò comprendere la misericordia di Nityananda? Come potrò comprendere la misericordia di Nityananda? Come potrò fluire 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 la misericordia di Nityananda? le regole, le regole, le regole, le regole, le regole, le regole, le regolazioni, le regole. Tarun, sì, lo capiscono ora? È chiaro? Dobbiamo andare nel flusso della corrente. Allora tutta la conoscenza comincerà a manifestarsi all'interno di noi. Quindi se siamo in questo flusso siamo aridi. Avete visto che il Prabhupada era in questo flusso oppure no? Nel commento della spiegazione di un verso della cetagna ceritamita, lui scrive che anche uno sciocco bambino può comprendere Vrajanda Nandana, Krishna. Quindi qual è la qualifica? Prima è diventare sciocco e poi diventare come bambino per comprendere Vrajanda Nandana. Un bambino sciocco. Un bambino sciocco. Un bambino sciocco. Quindi siamo molto distanti dalla comprensione. Noi non vogliamo diventare dei bambini sciocchi, innocenti. Quindi siamo molto distanti dalla comprensione. Svarupa e Svarupa Siddhi. Nella pagina quattro della Bhagavad Gita, vedete, ogni libro quando vedo, ho scritto, ho detto, wow! Svarupa e Svarupa Siddhi. Nella pagina quattro della Bhagavad Gita ha scritto Svarupa e Svarupa Siddhi. Facciate questo e poi vedete cosa succederà dentro di te. Non bisogna leggere molti libri o cercare di fare qualcosa. Praticate Svarupa e Svarupa. Certo o no? Sì. Un'altra line, scrivete Svarupa e Svarupsiddhi. Prabhupada, paragrafo, e pratica. Vedete l'esempio, dopo qualche tempo vedete. Potete fare un grande posto, perché mia madre, Sanatati, ha fatto tutto. chi è che può essere in relazione? Chi è che può essere in relazione? perché è una connessione divina, non è materiale. Eh? la mia visione si è aperta ancora di più quando ho visto il Vangelo di Maria Magdalena. Ero scioccato da ascoltare il Vangelo di Maria Magdalena. uno degli appostoli di Gesù ha chiesto a Maria Magdalena. uno degli appostoli di Gesù ha chiesto a Maria Magdalena. una persona ha chiesto a Maria Magdalena. Cosa è l'opinione di Gesù ha chiesto a Maria Magdalena? e mi disse che le cose materiali non possono fare peccato. questo può fare peccato? il muro può fare del peccato? le cose materiali non possono fare peccato. ma quando il materiale si mischia con il Leo spirituale allora questo prende il peccato. non si connette con la filosofia vedica. e lui dice e poi lo prendono. il peccato è che mi dimentico che sono un'anima. quello è il mio peccato. e quindi dimenticando la mia anima ho dimenticato anche il centro della creazione. questo è il mio peccato. e non solo questo. ho dimenticato anche la relazione che c'è tra di noi. e questo è il mio peccato. che io sono la moglie e lui è il mio marito. questo è il mio peccato. questo è il mio peccato. 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 magari alcuni ho avuto le parole ma il mio peccato è questo. qualche parola può darsi che me la sono lasciata. però il succo del discorso era questo. Quindi come potrebbero comprendere senza capire che questo è così divino? È divino o non? Sì, è la verità. Non è un mixaggio materiale e spirituale. È completamente divino.